E voi? Sparate addosso. Se ci fermiamo ci lascerete andare. Devo arrestarti e portarti davanti a un tribunale. Credo che tu già conosca le accuse che ti verranno mosse. Diserzione di tradimento. Ti prendi per il culo, vero? Io un traditore? Tu che ne dici? Dove pensavi di portare quel treno, eh? Un diretto di piacere? No, la risposta è una sola. Ti sei venduto. E ora cercami di tornare dai tuoi nuovi padroni. Quindi hai già emesso il verdetto? Avremo neanche l'ombra di un progetto. Valla finita. Cosa state trasportando? Mappel? Pianite le nostre difese? Volevi comprarti un futuro al caldo vendendo le nostre vite. Maledetto Scorpio. Pianite? Tradimento? Mi abbiamo servito per anni senza... Fare domande? Abbiamo versato il nostro sangue per la causa. Ti sei venduto. Loro ci hanno distrutti. E tu? Sono sempre stato un militare. Ho dedicato la vita alla mia cazzo. Al mio paese. La regalerò a dei barattiti come te. Ottimo lavoro, Arzio. Sì, ben fatto, Arzio. Ora continua. Ne stiamo avvicinando. Unita a 13. Preparatevi. Unita a 13. Preparatevi. Attenzione. Tempo scaduto, Riesel. Salva. Siamo rallentati. Ma i previ di questo sport sono veicinale. Rilassati, conoscendo. Mi prenderanno i miei uomini a darvi una mano. Erbach. Perché non l'hai fatto? L'utile è di prendermi vita! Ignoratelo! Attenzione, venito con te! Vesto di merda! Hai superato il limite!